Buongiorno a tutti! Siamo qui al Tiro a Volo San Martino di Riosalzo per l'edizione 2022 di Porte Aperte al Tiro a Volo. In questa fantastica giornata ci sono i ragazzi che stanno già provando da diverse ore e molti di loro ci hanno fatto delle domande sulle cartucce utilizzate. Visto che abbiamo la fortuna di avere con noi degli ospiti d'onore come Gianluca e Carlotta di Baschieri e Pellagri, insieme a loro proveremo a rispondere a queste domande. Ciao a tutti! Un saluto a tutti! Allora, iniziamo da una domanda molto basic dai nostri neofiti che ci chiedono quali cartucce si utilizzano per il tiro al volo. Si, si utilizzano delle cartucce a pallini, quindi delle cartucce normalissime che hanno un contenuto di pallini in piombo oppure in certi casi anche in ferro. Perché? Perché si utilizza una rosata per colpire un bersaglio in movimento. Quindi per intercettare un bersaglio in movimento è possibile farlo utilizzando una rosata di pallini e diventerebbe impossibile o difficilissimo con un proiettile unico. È una cartuccia, questa ad esempio, delle più diffuse, in calibro 12. Si utilizza anche il calibro 20, il calibro 28 e il calibro 410. Ci sono delle gare specifiche per i piccoli calibri. Allora, iniziamo ad andare un po' più nel dettaglio. Gianluca, ci chiedono, esistono cartucce specifiche per ogni disciplina? Un neofita deve quindi cambiare cartucce a seconda della disciplina che pratica? Beh, certamente sì, perché passando dalla fossa, dal trap quindi, allo skid, al percorso di caccia, abbiamo dei bersagli che si ingaggiano in modo diverso e distanze diverse. Quindi è diverso sia il numero del pallino che si utilizza, 7,5-8 per la fossa, il 9,5 per lo skid e anche l'8,5 per il percorso di caccia. E anche nel tipo di borraggio che c'è all'interno di queste cartucce, per regolare le rosate sulla distanza media in cui si intercetta questo bersaglio. Quindi la risposta è sicuramente sì, ogni disciplina ha delle cartucce dedicate al fine balistico migliore per poter intercettare meglio il bersaglio. Allora, ci chiedono, entriamo nello specifico, quali sono le cartucce più adatte per il tiro al volo? Le cartucce più adatte per il tiro al volo sono quelle specifiche, perché sono studiate per avere una velocità e una caratteristica di rosata e anche di rinculo ottimale. Quindi sono cartucce che danno il miglior risultato balistico e la migliore sollecitazione al tiratore. Non è troppo violenta, non è troppo leggera e ha comunque una capacità di rottura finalizzata a ottenere il miglior risultato sul piattello. Ecco, diciamo che per ogni disciplina è importante selezionare la cartuccia adatta in modo da avere sempre il più grande vantaggio balistico dalla cartuccia specifica. Allora Gianluca, ci sono degli aspetti che un neofita può valutare nella scelta della cartuccia? Direi di sì sotto l'aspetto del rinculo, che è uno dei principali problemi di chi inizia a sparare. Il rinculo è temuto molto spesso dal neofita che non conosce ancora la sollecitazione che viene impartita alla sua spalla dal fucile. Quindi sicuramente chi inizia selezionando delle cartucce con grammatura 24, quindi la più bassa, e magari con velocità non molto alte, ha una cartuccia morbida che in un primo e senso momento lo può aiutare sicuramente, facilitando un pochino questo primo impatto con lo sport del tiro a vuole. Grazie. E chiudiamo con l'ultima domanda Gianluca. Soprattutto nei fucili moderni, quelli con gli strozzatori intercambiabili, quali strozzatori consiglieresti a un neofita? Allora, gli strozzatori sono un'innovazione abbastanza recente. Una volta i fucili da tiro erano tutte strozzature fisse e le strozzature erano regolate sulla disciplina particolare. Quindi allo skid c'erano delle canne strombate, alla fossa c'erano delle canne molto strozzate e nel percorso si utilizzavano delle strozzature intermedie. È un vantaggio notevole poter scegliere la strozzatura, perché in questo modo, soprattutto un principiante, può avere delle rosate un po' più generose. Magari non ha delle rotture spettacolari, quindi delle fumate, come si dice in gergo, però ha una maggior garanzia di poter colpire il piattello anche con i margini della rosata, utilizzando uno strozzatore un pochino più aperto. Quindi delle strozzature magari di 4-3 stelle in prima canna e 2 stelle in seconda canna. Allora Gianluca, diversi neofiti ci hanno chiesto cosa significa strozzatura 1, 2, 3 stelle. Puoi spiegarci di più? Certamente. La strozzatura, come dice la parola, è una costrizione che c'è alla fine della canna. In questi ultimi tempi è diventata variabile appunto con degli strozzatori che vengono avvitati. La strozzatura ha un effetto sulla rosata, quindi una strozzatura può fare una rosata più o meno aperta. 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, perché sono 5 i gradi, indicano quanto è intensa questo restringimento. Una stella è la strozzatura più accentuata, è la strozzatura che permette di sparare più lontano perché produce delle rosate più dense. 5 stelle, chiaramente, invece è una strozzatura cilindrica, è una non strozzatura e permette di sparare con una notevole efficacia delle rosate già generose anche sui 20, 22, 25 metri. Quindi una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle indicano il livello di strozzatura della canna e il tipo di rosata e la portata che ci aspettiamo da quella strozzatura. Bene, abbiamo risposto alle domande dei nostri ragazzi, quindi ringrazio Gianluca e Carlotta per l'aiuto in queste risposte. Quello che possiamo fare ora è fare altri due passi sulle pedane e vedere se ci sono altre domande a cui possiamo aiutare a dare una risposta. Certamente sì. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.